ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerà i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco drone darone aristo aristo farma italy srl ultimo aggiornamento 18 marzo 2022 cosa drone darone aristo confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere drone darone aristo durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cosa drone darone aristo drone darone aristo ha un farmaco a base del principio attivo drone darone appartenente alla categoria degli anti aritmici e nello specifico anti aritmici classe iii è commercializzato in italia dall'azienda aristo farma italy srl drone darone aristo può essere prescritto con ricetta rrl medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti confezioni drone darone aristo 400 mg 60 compresse informazioni commerciali sulla prescrizione titolare aristofarma gmbh concessionario aristofarma italy srl ricetta rrl medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti classe a principio attivo drone darone gruppo terapeutico anti aritmici forma farmaceutica compressa indicazioni drone darone aristo ha indicato per il mantenimento del ritmo sinusale a seguito di cardioversione con esito soddisfacente in pazienti adulti clinicamente stabili con fibrillazione atriale fa parossistica o persistente dato il suo profilo di sicurezza vedere paragrafi 4 3 e 4 4 drone darone aristo deve essere prescritto solo dopo che siano state valutate opzioni alternative di trattamento drone darone aristo non deve essere somministrato a pazienti con disfunzione ventricolare sistolica sinistra oa pazienti con insufficienza cardiaca pregressa in corso posologia il trattamento deve essere iniziato e monitorato solo sotto la supervisione di un medico specialista vedere paragrafo 4 4 il trattamento con drone darone aristo può essere iniziato in ambiente ambulatoriale il trattamento con farmaci anti aritmici di classe uii quali flecainide propatenone chinidina disopiramide dofetilide sotalolo amiodarone deve essere interrotto prima di iniziare il trattamento con drone darone aristo ci sono informazioni limitate sulla tempistica ottimale per passare da mio darone a drone darone aristo si deve considerare che la mio darone può avere una lunga durata d'azione dopo la sua interruzione a causa della lunga emilita se ha previsto un passaggio questo deve essere effettuato sotto la supervisione di un medico specialista vedere paragrafi 4 3 e 5 1 posologia negli adulti la dose raccomandata di 400 mg due volte al giorno si consiglia di assumere una compressa durante la colazione e una compressa durante la cena non deve essere assunto succo di pompelmo contemporaneamente a drone darone aristo vedere paragrafo 45 se viene dimenticata una dose il paziente deve prendere la dose successiva al normale orario programmato e non deve assumere una dose doppia popolazione pediatrica la sicurezza e l'efficacia di drone darone nei bambini sotto i 18 anni di età non sono state ancora stabilite non ci sono dati disponibili anziani l'efficacia e la sicurezza del medicinale sono risultate comparabili nei pazienti anziani che non hanno sofferto di altri disturbi cardiovascolari e nei pazienti più giovani è necessario prestare attenzione nei pazienti a 0 ien 75 anni quando sono presenti comorbidità vedere paragrafi 4 3 4 4 e 5 1 sebbene in uno studio di farmacocinetica condotto su soggetti sani l'esposizione plasmatica nei soggetti anziani di sesso femminile sia risultata più elevata l'aggiustamento delle dose non ha considerato necessario vedere paragrafi 51 e 52 compromissione epatica a causa della mancanza di dati drone darone ha controindicato nei pazienti con compromissione epatica grave vedere paragrafi 4 3 e 4 4 non ha richiesto alcun aggiustamento delle dose nei pazienti affetti da compromissione epatica lieve o moderata vedere paragrafo 52 compromissione renale drone darone ha controindicato in pazienti con compromissione renale grave clarance della creatinina crcl 30 ml barramine vedere paragrafo 4 3 non ha richiesto alcun aggiustamento delle dose negli altri pazienti con compromissione renale vedere paragrafi 4 4 e 5 2 modo di somministrazione uso orale si consiglia di deglutire la compressa intera con un bicchiere d'acqua durante il pasto la compressa non può essere divisa in dosi uguali controindicazioni ipersensibilità al principio attivo a qualsiasi amino glicoside o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6 1 blocco atrioventricolare di secondo o terzo grado blocco di branca completo blocco di stale disfunzione del nodo del seno difetti di conduzione atriale o malattia del nodo del seno a meno che il medicinale non venga usato in combinazione con un pacemaker funzionante bradicardia 50 battiti al minuto bpm fibrillazione atriale permanente con durata della fa 0 yen 6 mesi o durata non nota e i tentativi di ripristino del ritmo sinusale non pià considerati attuabili dal medico pazienti in condizioni emodinamiche instabili insufficienza cardiaca pregressa o in corso o disfunzione ventricolare sistolica sinistra pazienti con tossicità epatica e polmonare correlate al precedente impiego di amiodarone cosomministrazione di inibitori potenti del citocromo p450 chip 3 a 4 qualichetoconazolo itraconazolo boriconazolo osaconazolo telitromicina claritromicina nefazodone eritonavir vedere paragrafo 4 5 medicinali in grado di indurre a eurostorsioni di punta euro s quali fenotiazina cisapride bepridil antidepressivi triciclici terfenadina e alcuni macrolidi orali come eritromicina medicinali antiarritmici di classe ii vedere paragrafo 4 5 intervallo qtc formula di buzzet a 0 yen 500 millisecondi compromissione epatica grave compromissione renale grave crcl 30 ml barra min cosomministrazione di tabigatran avvertenze speciali e precauzioni di impiego si raccomanda un monitoraggio accurato durante la somministrazione di drone darone attraverso una periodica valutazione della funzionalità cardiaca epatica e polmonare vedere sotto se la fibrillazione atriale si ripresenta si deve vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codita.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione drone darone a principalmente metabolizzato dal chip 3 a 4 vedere paragrafo 5 2 pertanto gli inibitori e gli induttori del chip y 3 a 4 possono interagire con drone darone drone darone a un inibitore moderato del chip vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codita.it interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere drone darone a listo insieme ad altri farmaci come euro sabraxane a euro a euro sabstra la euro a euro sactica euro a euro sagileva euro a euro salbatena euro a euro salventanil piramala euro a euro salgata euro a euro salghedona euro a euro salgrama euro a euro salmaritm compressa euro a euro salmaritm soluzione uso interno a euro a euro saloperidolo galenica senese a euro a euro saloperidolo pensa a euro a euro saloperidolo salfa euro a euro salvanda euro a euro saptivosa euro a euro saranda compressa rivestita euro a euro satazzana viracorda euro a euro satazzana vircrca euro a euro satazzana virmilana euro a euro satazzana virsandozza euro a euro saurantina euro a euro sa valox compressa rivestita euro a euro sa valox soluzione uso interno a euro a euro sbatiflux a euro a euro sbuccolama Ha euro, 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 ha a EUROSCALITROMICINA EXAL a euro, a EUROSCALITROMICINA ICMA a euro, a EUROSCALITROMICINA MILAN GENERICS a euro, a EUROSCALITROMICINA PENSA a euro, a EUROSCALITROMICINA SANDOZZ a euro, a EUROSCALITROMICINA SANDOZZ GMBH, GRANULATO a euro, a EUROSCALITROMICINA SUN a euro, a EUROSCALITROMICINA SAN FARMA a euro, a EUROSCALITROMICINA TEVA a euro, a EUROSCALITROMICINA ZENTIVA a euro, a EUROSCALARMAC a euro, a EUROSCALENTORA a euro, a EUROSCALVERTA a euro, a EUROSCALVERTA Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.